Il problema della viabilità nel Cilento è un problema annoso, tutti purtroppo si ci scontrano quotidianamente, ma uno dei problemi che si evidenzia di più, soprattutto negli ultimi anni, è il dissesto idrogeologico. Sia la costiera cilentana, a partire da Agropoli a Sapri, noi vediamo che la vecchia strada che costeggiava tutti i paesi della costa, e chiaramente come emblema noi abbiamo la frana di Pisciotta, che è un problema che spero che giunga a risoluzione, pare che ci sia il finanziamento e dovrebbero partire i lavori per bypassare quella frana. Però non è solo Pisciotta il problema o quell'aria, tutti questi paesi costieri, a cominciare dal comune di Pollica, Casalvelino, ci sono degli avvallamenti, ci sono delle buche, la manutenzione ordinaria è scarsa. Andando poi nei paesi interni, è peggio ancora perché le vie sono abbandonate, si riscontra che non c'è una manutenzione adatta, chiaramente anche i comuni sono in difficoltà, dovrebbe intervenire la regione e la provincia per sostenere economicamente i piccoli comuni interni e quindi dargli manforte per la risoluzione di questi problemi. Cosa ha fatto il Codacons? Il Codacons prima di tutto ha denunciato questa situazione. Poi stiamo facendo un monitoraggio delle strade del Cilento, quelle che sono abbandonate oppure sono stati iniziati dei lavori e poi improvvisamente o perché è nata un'inchiesta o perché la situazione, insomma, sono finiti i fondi, sono abbandonate a loro stesse e non sono state ultimate. Noi assistiamo a delle strade che sono 40 anni, che sono dei cantieri aperti, non si chiudono e il Cilento purtroppo è pieno di queste situazioni. Noi stiamo monitorando la situazione di queste strade, stiamo acquisendo i documenti e dopodiché agiremo anche legalmente se è necessario, anche denunciando alla Procura della Repubblica degli abusi fatti da parte delle istituzioni oppure se riscontriamo delle questioni particolari cerchiamo di analizzarle anche con delle azioni di carattere legale e collettivo, insomma.